Al centro dell'episodio del Vangelo di questa seconda domenica di Pasqua sta la persona di Gesù. Ci troviamo nel Cenacolo, dove gli Apostoli vivono reclusi per timore dei capi del popolo ebraico. Improvvisamente il Signore si rese presente in mezzo a loro. Egli è risorto dai morti e, poiché è vivo, può venire e fermarsi in mezzo ai Suoi amici. Chi si manifesta non è un fantasma, è lo stesso Gesù che due giorni prima avevano visto morire con atroci sofferenze sulla croce. E perché i discepoli non avessero alcun dubbio al riguardo, Egli mostrò loro le mani e il costato. Le mani che erano state confitte sulla croce e il costato che era stato aperto dalla lancia del soldato. Dopo essersi presentato e fatto riconoscere, Gesù risorto compie un atto, alitò su di loro, e poi offre loro un dono, e disse, ricevete lo Spirito Santo. Il gesto del Signore ha un significato molto profondo, in quanto ricorda il modo con cui venne creato il primo uomo, il quale prende vita perché Dio alita in lui il suo soffio vitale. Il gesto compiuto da Gesù è dunque un gesto che ricrea la persona umana. Con esso viene donato al discepolo la sua stessa vita. Quel giorno dunque, nel Cenacolo, è accaduto qualcosa di veramente straordinario. Il Signore risorto, facendo dono del suo Spirito ai discepoli, li rigenera ad una vita nuova e costituisce la nuova comunità dei figli di Dio, la Chiesa. Ma il dono comporta sempre un impegno. La grazia porta con sé un compito. Gesù risorto dice, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Con il dono dello Spirito, la comunità dei discepoli di Cristo diviene una comunità missionaria. Si apre al mondo, va nei posti più lontani, per portare la presenza salvatrice di Cristo. Quanto è accaduto nel Cenacolo di Gerusalemme, accade anche per noi ogni volta che partecipiamo alla Santa Missa. La celebrazione eucaristica, infatti, non ha al suo centro né il sacerdote né l'Assemblea, ma la persona di Gesù. I cristiani, come i discepoli nel Cenacolo, si riuniscono nei loro luoghi di culto, non per ricordarsi di Gesù, ma per incontrarlo. Non per parlare di Lui solamente, ma per parlare con Lui. È possibile questo incontro perché Egli è risorto e vivo ed è presente in mezzo a noi. A noi, come Tommaso, viene chiesto di gettarci ai piedi del Risorto per confessare la nostra fede, mio Signore e mio Dio, che equivale a dire Tu sei il Signore della mia vita, a cui voglio rimanere fedele per sempre, perché con la Tua Resurrezione rimani l'incrollabile fondamento della pace, l'inesauribile fonte della gioia e l'unica via per umanizzare il mondo. Buona Pasqua a tutti!